Amate Dio e il prossimo! 17 gennaio 1975. Figli dilettissimi, eccovi qui, ferventi e buoni, attorno alla vostra mamma celeste. Come non esprimervi la mia gioia e la mia riconoscenza? Voi mi amate ed io vi amo di un amore senza misura. Io voglio la vostra salvezza e la vostra santità. Al giovane che, avvicinando Gesù, gli chiedeva, che cosa devo fare per salvarmi? Gesù rispondeva, ama Dio e il prossimo. Voi siete qui, e come fiori che aprono le loro corolle, aprite ai richiami della grazia i vostri cuori. Mi pare di dovervi interrogare ad uno ad uno e di chiedervi, che cosa vuoi da me, e di sentirmi rispondere con un'altra domanda. Che cosa devo fare per salvarmi e per aiutare altri a salvarsi? Ed io vi rispondo come Gesù al giovane, amate Dio e il prossimo, e aggiungo, siate sereni e portate a termine quel lavoro che nel nome mio avete cominciato. In un mondo che è diviso come in due grandi metà, chi presume di salvarsi senza praticare i comandamenti e senza credere alle verità rivelate, e chi si dispera e pensa impossibile salvarsi, poiché non ammette in Gesù la misericordia e l'amore infinito, voi siate coloro che segnano un asse d'equilibrio e, ammettendo che siete deboli, confidate in colui che ha la forza. Voi sarete chiamati illusi e pazzi proprio perché il mondo, avendo escluso fede e morale, non può ammettere che vi sia coscienza, bontà ed equilibrio in chi segue il Maestro. Ma non importa. Siete sotto il mio manto come i piccoli prediletti della Madonna. Che facevano un tempo i fedeli quando passava Gesù Eucaristico per le strade? Lo facevano precedere da bambini che, gettando petali di rose, gli preparavano la strada. Voi gettate i vostri petali ed io passo convertendo, sanando e santificando le anime. Siate benedetti e la pace sia sempre con voi. Io veglio su di voi e vi proteggo.